La Guardia di Finanza festeggia il 245esimo anniversario della sua fondazione. La cerimonia, svoltasi presso la sede di Catanzaro, è iniziata con un solenne alza bandiera e la deposizione di una corona al monumento a caduti. Nel corso della ricorrenza, il generale Contini ha poi tracciato e reso conto dei risultati operativi conseguiti in Calabria negli ultimi 17 mesi. In particolare sono quattro gli obiettivi strategici che le Fiamme Gialle e Calabresi hanno condotto nell'ultimo anno e mezzo di attività. Innanzitutto il contrasto all'elusione e alle frodi fiscali. Gli evasori scoperti sono stati in totale 296 numerosi controlli che hanno portato a constatare una base imponibile sottratta a tassazione di circa 865 milioni di euro. Significativi poi i risultati ottenuti anche nel settore del lavoro nero. Scoperti più di 1000 lavoratori irregolari e denunciati 353 datori di lavoro. Un altro obiettivo ha riguardato invece il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. Tale comparto ha interessato la prevenzione e la repressione delle frodi nella percezione dei flussi di finanziamento a valere sui bilanci nazionali e dell'Unione Europea. Si tratta di erogazioni pubbliche molto consistenti messe a disposizione della collettività, sia per sostenere la crescita del sessuto imprenditoriale, sia per assicurare copertura sanitaria e previdenziale ai cittadini, ai lavoratori e alle fasce deboli della società. Denunciati 393 pubblici ufficiali in materia sanitaria accertata frode di oltre 27,7 milioni di euro, truffe per 20,7 milioni invece nel settore previdenziale. In materia di criminalità economico-finanziaria infine ammontano a 1,29 miliardi di euro dai beni sequestrati e a 217 milioni confiscati alla criminalità organizzata. 45 tonnellate invece agli stupefacenti sequestrati ai narcotrafficanti.